In primis parlo di Cremona perché ha un significato chiaro in relazione alla recrudescenza, cioè l'incidenza della patologia mammaria in quell'area specifica della regione Lombardia. Normalmente abbiamo una stimata di casi, 7 casi, 5 casi ogni 10, a Cremona arriviamo quasi 10 donne ogni 12, quindi una percentuale più alta. Tutta la parte orientale e a sud della regione ha questa problematica, quindi inserire un concetto di breast unit in quell'area ha un significato, sia per quanto riguarda l'assistenza dal punto di vista sanitario, sia in tema di welfare. Punto numero uno è questa la base sul quale è stata voluta e creata una realtà di questo genere. Il secondo punto è che è giusto avere una breast unit perché si prende cura del percorso della donna, ma ritengo anche altrettanto importante che il percorso della donna sia scandito e sia individuato con dei QPI precisi, quindi sia certificato. Ecco perché Cremona nel suo percorso di crescita in termini di breast unit ha voluto, fortemente desiderato, entrare uno in seno network, due all'interno di essere certificati OSOMO. Questo per dare validità al percorso e garantire alle donne che all'interno di quella realtà si seguono degli standard di cura che poi si trasformano, come oggi sappiamo, in un aumento assolutamente considerevole di sopravvivenza, in relazione e in armonia con quanto riguarda le indicazioni regionali, le indicazioni del sistema sanitario nazionale, ma anche con quelle europee. Questo è il primo punto. Oggi la consapevolezza delle donne rispetto a pochi anni fa è assolutamente più alta e cercano questa tipologia di unità. Nel momento in cui è più facile oggi spiegare alla donna che vuole essere curata in una breast unità, dall'altra parte proprio questo agevola il colloquio e quindi il rapporto col paziente è perché andiamo a sottolineare quale sono le importanze e come si possa concretizzare in termini di beneficio di percorso di cura, riduzione dei tempi in termini di assistenza e di intervento sulle cure, di diagnostica e allo stesso tempo in proiezione sull'outcome. Quindi il nostro dovere è comunicare l'importanza, dall'altra parte è favorire la percezione della donna all'interno di questo percorso, dall'altra parte devo dire che siamo agevolati negli ultimi anni perché comunque c'è consapevolezza su questo. Ora, io vengo, ripeto, da Cremona, realtà fortemente territoriale, quindi mentre se mi paragono a realtà delle grandi metropoli dove abbiamo un concetto di breast unit legato alla metropoli, quindi più vicino a se stessi in termini di cancer center, dall'altra parte il territorio fa richieste diverse e complica in alcuni sensi il percorso. Cioè noi dobbiamo, la criticità che noi vediamo come breast uniti di territorio è legarsi al territorio, che è un mandato di PNRR, quindi ben venga, ma dall'altra parte dobbiamo costruire relazioni col territorio e soprattutto intendo col medico di città generale, con i termini di territorio, affinché percepiscono il modello, lo condividono e permettono quindi anche alle donne che sono in realtà più rurali, a volte magari meno consapevoli, sappiano di questa opportunità diagnostico-terapeutica. La sfida vera oggi è la criticità, ma diventa una sfida, è quello di costruire quei modelli di cura, quei percorsi cura, che io vorrei che siano accreditati, in modo tale che siano certificati, accreditati, ma per rendere consapevole una realtà che non è una realtà metropolitana, comunque magari più vicina a questo sistema per N motivi dai media stessi, ma che siano coinvolti un territorio che invece ha bisogno di prenderne coscienza. Ho ricevuto una chiamata riguardo alle associazioni di volontariato che supportano la figura e per rinnovo di contratti. Questo da una parte sottolinea la necessità da parte delle associazioni di volontariato del territorio che hanno individuato essenziale questa figura per far sì che seguano l'associazione stessa e i pazienti. E quindi mi piace pensare di questa consapevolezza. Dall'altra parte il mio rammarico è che inserire in maniera istituzionale questa figura è difficile, vorrei onestamente di più perché oggi la donna lo chiede, se prima aveva timore, oggi lo chiede e riconosciamo che una relazione medico-paziente-infermiera in presenza dello psicologo è necessaria e mandatoria. Tema di rete, tema che per me onestamente mi sente partecipe, lo vedo molto a cuore, ma ritorno a quel concetto dove io, Bresti Uniti di territorio, che deve costruire una rete intorno di consapevolezza tra operatori sanitari, associazioni di volontariato, territorio inteso come MMG, la rete oncologica è necessaria, la rete tra le associazioni è necessaria per far sì che si percepisca percepisca il ruolo della Bresti Uniti e si validi ancora di più e si erradichi questo concetto di assistenza a tutto tondo verso la donna. La risposta è sì. Se vediamo oggi quanto è importante il ruolo della buona, avremo un modello americano dove c'è stato un cambiamento importante, una spinta in termini di attività fisica, buono stile di vita e si vedono i primi effetti in termini di riduzione dell'incidenza, prendo l'esempio della California, dove si vede questo effetto. Quindi traslando sulla nostra realtà è importante, e lo psico-oncologo per l'adesione alla terapia e tutto questo sistema serve per aumentare una consapevolezza anche di questa opportunità. E se oggi vediamo qual è il ruolo dello stile di vita e uso un parametro biochimico, che è il microbiota, e quanto è importante nella modulazione dei nuovi farmaci e delle risposte, vuol dire che c'è un'interconnessione vera, un interplay tra salute del paziente, risposta al farmaco e stile di vita, perché il microbiota gioca un ruolo tra tutte e due. Quindi benvengano opportunità del genere che permettano di favorire un miglioramento del percorso di salute, ma che si riflette poi obiettivamente sul paziente, in corso anche di terapia, oltre che sull'incidenza.